E adesso andiamo a Gravina, nella Murgia Barese, per visitare un'impresa innovativa tecnologica molto giovane, la McNeil. Vediamo di cosa si tratta con Vito Marinelli. Continua il viaggio nell'impresa, la campagna itinerante promossa da Confindustria nelle aziende di successo del nostro territorio. Stavolta la tappa è a Gravina, città dove ha sede la McNeil, una giovane impresa di informatica elettronica e telecomunicazioni messa su dieci anni fa da coniugi poco più che quarantenni, Nicola La Venuta e Maria Rita Costanza, diventati, oltre che compagni di vita, anche partner di un gigante del settore come la telecom, con il loro gioiello di famiglia. Si chiama Remote Angel, un angelo custode per auto ad altissimo profilo tecnologico, un antifurto satellitare portatile, utile anche per la gestione e il controllo dei mezzi aziendali. Qui fa Pandan anche un localizzatore utile in caso di pericolo e per tenere sotto controllo alcune malattie come il diabete o il colesterolo. All'inizio nemmeno le banche davano credito a questa coppia che viveva di utopie high-tech e di sogni bluetooth, tanto da essere costretti a ipotecare la casa dei genitori per un primo prestito. Ma la perseveranza ha dato loro ragione. L'azienda, che ha sede nel centro storico di Gravina, all'interno di un palazzo cinquecentesco, ha fatturato nel 2012 oltre 2 milioni di euro, impiega 70 collaboratori, tutti laureati, per il 70% donne e con un'età media di 30 anni. Dal mobile al mobile, sottolineano sornioni i coniugi McNeill, che nel cuore della murgia hanno soppiantato l'imbottito con il silicio. Come diceva Einstein, l'immaginazione è più importante della conoscenza.